Se io vado a abbraccio come mi sento o come mi capita o come mi viene in base a chi ho davanti e poi ho successo o non ho successo, dov'è che ho sbagliato? Non lo so, perché ogni volta vado a abbraccio, ogni volta vado un po' come mi sento. Quindi se mi sento più brillante e entusiasta magari vado più veloce e chiudo prima, magari se sono un po' più demotivato, stanco, arrabbiato, frustrato, ecco che magari la vendita non accade. E quindi come faccio a correggermi? Una volta che invece acquisiamo uno schema di vendita, però ci diamo dei punti nella nostra testa e seguiamo sempre quelli, ecco che se abbiamo successo possiamo esaminare cosa ci ha portato lì. Se non abbiamo successo possiamo vedere quale fase magari abbiamo saltato, ok, per poi toppare la vendita. Dopo l'appuntamento di vendita la persona ci dice sì lo compro, no non lo compro e vi dovete sempre assicurare Ecco. Non.